Grazie Salsa America, grazie soprattutto Samo e l'Erica, perché con voi è sempre una garanzia. Sappiamo che ci divertiamo sempre tanto, non ci si annoia mai e abbiamo sempre una compagnia sicura e veramente possiamo trascorrere dei momenti felici che sono molto importanti, soprattutto in questo momento. Quindi grazie, grazie davvero. E anche io ringrazio per questa opportunità, dopo dieci anni di non aver mai imparato a ballare, finalmente in poco o più di un anno ho imparato qualcosina e ho anche conosciuto delle persone splendide, a partire dai nostri insegnanti e anche i nostri compagni di corso, con cui abbiamo formato un bellissimo gruppo e quindi Salsa America non è soltanto professionalità nel ballo, ma anche una grande amicizia e l'opportunità di conoscere persone con cui condividere tante altre passioni al di fuori del ballo. Che dire? Hanno già detto tutto loro? Grazie Samuel Erika, grazie Salsa America, per tutto quello che ci state dando, divertimento, insegnamento, compagnia e che dire, siete mitici! Grazie a tutti!